Salve a tutti amici artisti, oggi finalmente andiamo ad unboxare il mio nuovo iPhone, dopo 7 anni sono passato dall'iPhone 5 all'iPhone XS Max la confezione mi è stata aperta già prima perché dovevamo controllare il prodotto forse a posto e quindi mi è stato spellicolato e io l'ho richiuso per poterlo unboxare recentemente inoltre abbiamo comprato anche già una cover perché mi preoccupo che si tenga bene a lungo e abbiamo messo anche già la pellicola già la pellicola per poterlo tenerlo protetto già da subito allora proviamo, apriamolo, ok, questo è quello vecchio che probabilmente già conoscete perché magari l'avete visto in qualche video qua c'è il fogliettino delle istruzioni contatto di sticker, fai vedere cosa c'è dentro allora ciao, hola, benvenuto a sti cazzi, ah, hola, le varie lingue, e poi stanno gli sticker, non c'è napoletano però ah, questo qua mettiamocelo da parte che dopo lo settiamo, e dietro stanno gli sticker in cosa ci sono anche queste cose? sono tipo le istruzioni, si dice di voi tasti del volume, c'è di touch, il face id, c'è molte, penso che voglio dire dopo tanto tempo abbiamo molte qualità in più dopo sette anni di cambiare, e poi io ho fatto un bel salto di qualche da 5 a x a 10 allora, adesso lo spelliconiamo, la colorazione space grey, io l'avevo chiesto oro ma purtroppo non c'era e quindi ho scelto questo qua però comunque c'è bello, comunque certo, indubbiamente, però se ci fosse stato quello non mi sarebbe dispiaciuto allora, spelliconiamo poi, aspetta voglio un attimo a prendere questi qua come tutti gli iphone, ovviamente, c'è il cavo, l'alimentatore, esatto, le cuffie, sono molto simili a quelle altre, no? queste qua non è che se non mi mette molto no, sì, nel senso sì sono così, però è la forma e poi c'è il cavo il cavo, speriamo che non si rompe mai perché penso sia la quinta volta in quest'anno che la cambia direi che sono abbastanza delicati, la vita degli iphone in generale vabbè, magari questo qua l'hanno fatto un po' come io, vedremo nel tempo eccola qua intanto avremo questo in modo che dopo lo... tantan pellicola di vetro offerto dal cinese e vabbè però ovviamente, oramai rigorosamente di vetro si, ci volevo ora, prima accensione, il tasto sta qua aspetta, guardiamolo in tutti i suoi dettagli bellissimo penso, allora ora è bello però a me scuro piace, lo sai sì, perché dà più una sensazione di borderlet sembra tipo che c'è, che è tutto schermo eh, infatti, veramente è tutto schermo e poi soprattutto la pellicola sembra... eh, bello, eh, sono contento eh, 1500 costa un occhio della testa, ma sono contento allora, quanto è... ah, c'è... vediamo qua sono 200... 256 giga quindi penso che puoi farci un sacco di cose con 256 giga ok ok eccoci qui ragazzi, allora, ho messo anche la cover sempre per precauzioni perché voglio... questa l'ho scelta apposta così perché l'avrei presa anche il rasparente ma l'ho scelta così perché ricorda un po' quella colorazione del... dell'oro dell'oro che volevo prendere e che non c'era quindi procediamo con la prima accensione tieni premuto ecco qua, è un po' da tendere vabbè, comunque la prima accensione eh, certo ora mostriamo questo, poi tagliamo perché lo configuriamo va configurato e poi lo mostrimmo configurato aspettiamo, vediamo quanto tempo necessita ma comunque la batteria è stata molto migliorata rispetto alla iPhone 5 molto migliorata lo spero perché vabbè, come tutti quanti conoscete gli iPhone insomma, è discutibile in italiano ok, adesso impostiamo il F6D adesso imposteremo il F6D continuo ok, adesso aspetta inizia inizia e mo ti prende la tua faccia mo devi girare la tua faccia girare no, 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 no ha scritto uno scanner la devi girare, capito, così ecco qua wow, puoi fighissimo continua ok mo sposta lentamente la testa eh, come prima, capi mo giù ok, poi giù aspetta, via via ok ok, così qua la seconda scansione del F6D continua continua ah, il codice lo vuoi creare? ma no magari non ancora opzioni di qua ecco qua il mio nuovo iPhone mi dà il benvenuto come minimo e quindi ora devi scrollare verso l'alto perché non c'è più il eccoci qua eccoci qui allora prima di tutto volevo un attimo dimostrare la differenza la differenza che è notevole un bel salto di qualità immagino che qua la qualità ti sia molto insomma migliore allora intanto si è sbloccato subito guardate come è rapido è sensibilissimo basta vedere facciamo così si blocca guarda ecco qua ecco qua ecco qua quindi col passaggio dei file eh consenti consenti vabbè facciamo dopo quindi col passaggio dei file sta dicendo e si fa come? wireless come? eh sì sì vabbè in realtà no con questo qua no con questo qua dobbiamo farlo manualmente perché da iOS 11 in poi poi si può fare questa cosa ah ecco capito però eh personalmente contento dell'iphone sì perché altrimenti non sarebbe passato dal 5 all'XS Max ehm che dire spero che anche voi lo potessero acquistare ahahah spero che questo video unboxing dell'iphone mi sia piaciuto al prossimo è 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